Allora, benvenuti a questo video, ma vi volevo raccontare una cosa, perché ultimamente non sto più portando la carriera di Coni Palermo. Alcuni potevo pensare, ma mi fermo attenti, sentite l'umore della pantofa, comunque sto dicendo. Alcuni potevo pensare che vabbè, però la serie di Minecraft è la serie principale. Sì, in effetti la serie di Minecraft era nata per fare la serie principale, però poi la serie di Pest dicevo che ha preso un sovramento e che quindi era abiettata la carriera, la serie principale e Minecraft la secondaria. E non è per rimettere le cose come erano, è per rimettere Minecraft a primo posto e Pest a secondo, che non portò più a carriera, ma per il motivo che viene molto, ma molto criticata la visuale e anche io non riesco a socare bene, perché ho la paura del telefono che possano riprendere qualcosa, che possa accadere qualcosa durante il video, perché Minecraft si ha portato in mano il telefono e quindi vedo, la invece deve essere la partita, devo vedere il telefono, è tutto un casino per me. Per voi non capite quasi nulla con la grafica e quindi ho deciso, ho provato anche a resistere alla PlayStation, però non si sono riuscito. Per prima che mi dice se avevo un account PlayStation Network che io in questo momento non ho, perché io so con line sulla Nintendo, per fisco, so con line sulla Nintendo. Per questo, non solo Pest, ma proprio ogni tipo di video sulla PlayStation, e vi ricordo che la PlayStation è questa, ogni video sulla PlayStation, se no ogni video, se sì ogni video, però può per siasi serie sulla PlayStation. adesso, momentaneamente, spero, non si sarà più. Scusate i cani che io non ho in casa, che so dei cani da andarsi, che stanno fuori. Comunque, questo parco ne ha popato dei gatti, vabbè, comunque, stavo risentendo e torniamo a noi. E quindi sto risentendo, spero momentaneamente, perché non so se in effetti non riesco mai a sistemare questo fatto e quindi non porto proprio mai più video sulla PlayStation, ma credo un modo o nell'altro. Prima o poi riuscirò a riportare i video sulla PlayStation. Non so quanto tempo che possa volere, mi devo impegnarmi, non devo fare. Da questo momento tutto è casinato della mia vita, quindi non sto neanche truando tantissimo tempo ad dedicare a YouTube. Quindi, cioè, rispetto al mese scorso, sto esagerato, però, aspetta le ultime tre settimane su questo fatto e la visuale, non ho fatto né un passo dietro e né un passo avanti. Quindi, sì, detrapisco una cosa più immediata, non sarà. Comunque, stasera, sì, per stasettendo, ora sto caricando il video, il 6 settembre alle 22 di sotto, quindi stasera il tempo torna alle 11, 12 e mezza del 6 settembre, inizia a registrare, quindi la mezzanotte, la mezza di notte del 7 settembre, sta su YouTube. Il nuovo episodio dovrebbe essere 12 settembre di Minecraft, che invece sulla Nintendo, e ricordo che la Nintendo, invece, è questa, non si vede niente, sento luce e ora si vede. Quindi, su Nintendo, cioè, non mi dite molto della grafica, non mi ha contestato tanto, quindi credo di sicuro la posso migliorare che, non so, soddisfatti se sta grafica, però, rispetto a pensare come registravo il video, qualche mese fa, e che chi non lo sapesse, io avevo anche un altro canale YouTube, e poi sono andata a perdere, vabbè, un'altra storia, rispetto a quei registravo il video, non ho fatto passi da sigante, però, mi sto migliorando, la Nintendo sto migliorando, quindi, per questo video istruttivo, su, perché il video è formativo, più che istruttivo, vienete, istruttivo è un altro termine, per questo video, quindi, è tutto, noi, ci vediamo più tardi con la serie di Minecraft, ciao!